Scafetta è uno degli ultimi arrivati in Casa Messina, di te si dice un gran bene, però presentati. Sì, sono Francesco Scafetta, sono un centrocampista che può ricoprire anche il ruolo di esterno. Sono venuto in una grande piazza e infatti sono veramente felice di essere qui. E con i primi giorni di ritiro come ti trovi col gruppo e soprattutto con Modica che conosci? No, per me appena mi è arrivata la chiamata del Messina non ci ho pensato due volte. Il gruppo mi ha accolto veramente bene, anzi mi ha fatto sentire subito parte integrante di loro. I tifosi del Messina li conosci abbastanza bene, cosa senti di dire? So che è una grandissima piazza, si merita palcoscenici più alti. Sono felice comunque di essere qui.